Quanti di noi non hanno avuto una fuoriuscita di sangue dal naso, che sia in seguito da un raffreddore, che sia in seguito da un colpo? In termine scientifico si chiama epistassi. Certamente non è da preoccuparsi più di tanto, ma da affrontare il problema. L'immediato pronto soccorso che possiamo fare da soli nel caso di un epistassi è quella di, non è di seguire i consigli delle nonne, che hanno spesso ragione ma in questo caso hanno torto, cioè non si mette la testa indietro perché il sangue si ottiene l'unico risultato di mandare il sangue in gola, quindi nessun vantaggio. Niente ghiaccio sulla fronte, niente ghiaccio sulla nuca, tutte queste cose non servono assolutamente a nulla. È sufficiente afferrare con la mano destra le larici, stringerle forte fino a far diventare bianche le ali del naso e non mollarlo per 5 minuti, guardare l'orologio e vedere i 5 minuti. Se si tiene serrato per 5 minuti l'epistassi si ferma. Soprattutto l'epistassi anteriore, che è un epistassi venusa legata a mille cause, anche un raffreddore, oppure l'uso continuativo di farmaci tipo l'aspirinetta per i cardiopatici è molto importante, ma facilita l'emorgea nasale, quindi l'epistassi. Esistono epistassi anteriori e epistassi posteriori. Le anteriori, come ho detto, sono banali. Nel caso delle epistassi posteriori, mentre quelle anteriori sono venose, le posteriori sono arteriose, quindi sono più copiose, sono di maggiore identità e richiedono spesso un tamponamento non solo anteriore ma anteroposteriore. Nei casi in cui il tutto sia causato dall'uso continuativo di farmaci tipo l'aspirinetta, il mio consiglio è quello di fare uno scollamento delle mucose che interrompe i vasi perforanti e quindi riduce l'afflusso sanguigno alle mucose nasali. Allo stesso, dicasi, nel caso di una deviazione al setto nasale. L'aria, sbattendo sul setto deviato, lo irrita in maniera cronica e quindi provoca l'epistassi. A quel punto l'indicazione c'è alla correzione della deformità del setto nasale. Se pensate che voi abbiate bisogno del mio aiuto, non fate altro che prendere un appuntamento con me e cercherò di fare del mio meglio per aiutarvi.